Chiusura di campagna elettorale con eurodeputato. L'onorevole Elis Lane all'Aquila per la serata finale prima del voto del candidato sindaco Nicola Trifuoggi. Sul piatto ciò che l'Europa può fare per l'Aquila e per le zone colpite dalle calamità. I fondi sono pochi, quelli che arrivano dall'Unione Europea, ma vanno gestiti bene? Anzitutto con un contributo finanziario che so che è arrivato anche qui all'Aquila. Questo è importante per dare un segnale ai cittadini di cosa può fare l'Europa in termini anche di solidarietà perché anche questa è una forma di solidarietà europea importante. Certo si potrebbe fare di più, ma ricordiamo che purtroppo il budget dell'Unione Europea è risibile, è molto poco rispetto alle aspettative che si hanno verso quello che l'Europa dovrebbe riuscire a fare. Si tratta di creare delle opportunità per i nostri giovani. Ci sono molti fondi indiretti e diretti, quelli indiretti passano per la programmazione regionale, mentre quelli diretti di cui si parla troppo poco sono fondi a disposizione anche delle piccole e medie imprese per internazionalizzarsi, per rivolgersi di più all'intero mercato europeo. L'Aquita, per come l'abbiamo immaginata noi nel progetto Trifoggi, deve assolutamente intraprendere un percorso europeo, di visione europea. Io in particolare ho spesso ricalcato questo tema in ottica di smart city, ma più che smart city di città sensibili, cioè città comunque innovative, inclusive e accessibili. L'onorevole Schlein, di possibile, da sempre informata ed attenta alle sorti aquilane, torna nel capoluogo insegnita del MEP Power 2017, il premio del magazine dell'Europarlamento, nel settore dello sviluppo per il lavoro svolto particolarmente intenso ed importante. Al termine di una campagna elettorale abbastanza sommessa nei toni, il candidato sindaco Nicola Trifoggi, che ha voluto questa serata, traccia il suo bilancio. Campagna elettorale di cui pochi ci sono accorti, se non per lunghi noiosissimi confronti fra i vari candidati alla carica di sindaco. C'è evidentemente chi ha avuto interesse a non alzare i toni, magari per evitare che la quota maggiore, che è rappresentata da quelli che non vanno a votare, da coloro che si asterranno a votare, potesse svegliarsi in attesa di qualche novità. Noi abbiamo cercato di far passare il nostro messaggio anche per convincere coloro che sono sfiduciati dalla politica che è il caso di assumersi le loro responsabilità esprimendo il loro voto.